Giovedì la Commissione Controllo e Garanzia e poi venerdì il Consiglio Comunale. Si aprono giornate cruciali per il confronto politico sulla bufera Coingas, scoppiata appena due settimane fa e che ha travolto anche il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli. L'inchiesta della Procura di Arezzo mira a far luce sulle consulenze considerate salate, pagate dall'azienda partecipata dal Comune Aretino per un totale di oltre 440.000 euro. 9 attualmente i nomi iscritti nel registro degli indagati, tra questi appunto quello del sindaco Ghinelli, accusato di favoreggiamento, e quello dell'assessore Alberto Merelli, indagato invece per concorso impeculato. La Commissione è stata convocata dal presidente Francesco Romizzi per poter discutere del caso giudiziario ed è aperta ad un intervento del sindaco Ghinelli. Mi preme sottolineare e fa sapere tramite una nota Romizzi come in mano all'opposizione e restino essenzialmente due strumenti a garanzia del proprio ruolo. Il primo sono le interrogazioni, il secondo è la Commissione suddetta. Convocarla a seguito di una vicenda come l'attuale mi pare dunque una mossa non da Tribunale del Popolo, ma che si colloca lungo un solco di carattere istituzionale che rivendica tutela della funzione generale di indirizzo e di controllo che ricopre l'intera Assemblea. Ricordo infine, conclude Romizzi, come la seduta sia aperta alla partecipazione dei cittadini che non possono tuttavia intervenire. La presenza del sindaco ancora non sarebbe comunque certa. Il primo cittadino invece sarà presente ovviamente in Consiglio Comunale, convocato per il prossimo venerdì e nel corso del quale sarà chiamato a rispondere alle interrogazioni delle opposizioni. Nell'inchiesta Coingas, oltre Ghinelli e Merelli, sono coinvolti anche il presidente di Estra, Francesco Macri, indagato per abuso d'ufficio, l'attuale amministratore unico di Coingas, Franco Scortecci e la ex dipendente Maracacioli, accusati invece di favoreggiamento. Concorso impeculato è invece l'accusa per l'ex amministratore della partecipata, Sergio Saderini, Marco Cocci, il commercialista retino a cui Coingas ha pagato consulezze esterne per 140.000 euro ed infine per l'avvocato fiorentino Pierettore Olivetti Rason, al suo studio Coingas ha affidato invece consulenze esterne per oltre 300.000 euro.